La rete di scuole Aretine, che ha permesso che la meravigliosa esperienza del quarto anno di Ciave di Eccellenza, che vive da ormai sei anni, oltre a ripartire dopo la pandemia con maggiore vigore, ha dato vita a un progetto per tutta l'Italia, per le scuole italiane, che è chiamato Sezione Rondine, cioè la possibilità col metodo Rondine di aprire un modo nuovo di fare scuola nelle scuole italiane. Rondine porta il proprio metodo fuori dalla Cittadella della Pace e lo fa con Sezione Rondine, ossia un triennio sperimentale nelle scuole secondarie di secondo grado. Ci insegneranno i docenti certificati metodo Rondine, stiamo facendo formazione a 150 docenti da tutta Italia, e ovviamente ai nostri retini, che stanno rispondendo con grande entusiasmo. non è un progetto periferico, ma è una sperimentazione per cercare di dare un impulso nuovo alla scuola dopo la pandemia. Due i licei a retini interessati, il liceo Redi, che avvia la prima classe terza della prima sezione Rondine, mentre il liceo Colonna, capofila della rete italiana che coordina la sperimentazione, dà il via contemporaneamente ad una classe seconda, quella propedeutica, al triennio, sezione Rondine. Noi proveremo a partire con questa nuova curvatura che dal quarto anno diventa in realtà un triennio dirato, girato su questi temi, all'interno delle istituzioni scolastiche che vi aderiscono, costituisce proprio la conclusione di un primo passaggio e l'apertura di un nuovo fronte. Un nuovo fronte che dovrebbe vedere come proiezione la possibilità per il metodo Rondine, per il progetto delle classi Rondine di diventare non più solo un'esperienza in quella specifica scuola, ma un'esperienza di sistema accessibile a tutto il territorio nazionale in maniera formale.